3, 2, 1, via! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, buona gara, buona remostura, sorridete che non andate in guerra, siamo in buona compagnia, ciao Irides, Team Team, ciao, 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 ciao ragazzi della cicloteca, grazie, buona gara, ci vediamo dopo, vai DJ! Vai Ale! Vai in cima, bravo! Berto, tanto sei ripreso, eh? Ale è già passato da un po'. Vai! No, no, non è foto, è filmino, vai pure! Vai Carlo, vai, vai, basta! Basta, perché è mai fatto un modello? Basta, perché è mai fatto un modello? Basta! 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 Grazie a tutti.